buoni buona gente sono luigi in arte lusio anzi professor lusio e benvenuti a questa nuova video lezione guardate io vi dovrei far vedere un po i preparativi che faccio io prima di mettermi a fare questi video sembra avete presente l'arrivo di miranda brislin e il diavolo veste prada quando ci sono tutti i lavoratori e le lavoratrici della redazione che subito devo c'è chi si trucca chi si toglie le ciabatte si mette le scarpe col tacco chi fa questo chi fa quell'altro chi si deve acconciare praticamente è la stessa cosa sono io due minuti prima di mettermi a fare i video ok va bene commenti anedottici sulla mia preparazione eccetera a parte il video che allora l'argomento di cui voglio parlarvi oggi è un argomento in cui mi sono imbattuto mentre stavo facendo la mia miniserie sulle sei moglie di enrico ottavo conoscevo già questa storia che vi narrerò oggi però era da tempo che non ci ritornavo sopra e andando a scavare un po tra i vari libri di storia a mia disposizione sono rincappato di nuovo in questa vicenda e mi è venuto in mente che su youtube italia nessuno ne ha ancora parlato e quindi i video in inglese ce ne stanno tanti sull'argomento però visto che in qui in italia non ce ne sono e mi potevo lasciar perdere l'occasione di di fare io di aprire io le danze al riguardo no non poteva assolutamente farmi mancare questa occasione quindi oggi restiamo ancora in terra inglese e ritorniamo di nuovo all'epoca tudor ma lasciamoci alle spalle il regno di enrico ottavo facciamo un bel volo d'aquila superando i regni di eduardo sesto il brevissimo regno di lady jane gray e il regno di maria prima e arriviamo al ricco e prospero regno di elisabetta prima con lei che rese grande l'inghilterra dovrei fare un'intera lezione dedicata solo a lei sulla elisabetta prima e vi prometto che lo farò ma non adesso non in questa circostanza perché con questa video lezione esco un po dalla modalità professor barbero e dentro in modalità carlo lucarelli e iniziamo un'indagine su un fatto parecchio misterioso come quasi tutti e come quasi tutti i casi misteriosi iniziamo dal fattaccio ci troviamo nel villaggio di camnor nel berkshire è la sera inoltrata di domenica 8 settembre dell'anno 1560 un gruppo di dieci persone di ambo i sessi e di varie età rientra a camnor hall un ex monastero adesso adibito ad abitazione civile queste dieci persone sono tutti servitori e servitrici che lavorano in quella casa hanno ricevuto la serata libera dalla loro giovane padrona per poter andare ad una fiera che si teneva nel paese vista l'ora cercano di fare il più silenzio possibile per non svegliare la loro signora ma appena rientrati i dieci servitori fanno una scoperta raccapricciante ai piedi della scalinata che porta al piano superiore trovano la loro padrona stesa per terra temendo che possa essersi sentita male la soccorrono subito ma si accorrono ben presto che non c'è più nulla da fare la loro signora è morta ha il collo spezzato ma chi è costei e cosa le è capitato colei che in quella tragica sera di settembre venne rinvenuta ai piedi di una scalinata nemmeno tanto grande era emmy dudley 28 anni moglie di sir robert dudley uno dei nomi più noti e influenti a corte perché sir robert era riconosciuto da tutti come il favorito della regina elisabetta prima potete quindi ben immaginare quale scandalo stesse per scoppiare nel pieno della corte elisabettiana ma adesso facciamo un piccolo salto indietro e cerchiamo di conoscere un poco meglio i protagonisti di questa tragica e misteriosa storia emmy dudley nacque con il nome di emmy robsart il 7 giugno del 1532 figlia di sir john robsart un ricco proprietario terriero del norfolk e di sua moglie elisabeth scott emmy poteva godere di una buona educazione venne cresciuta come una devota protestante ed essendo l'unica figlia dei robsart aveva già un futuro da ereditiera nel 1549 ebbe modo di conoscere robert dudley terzo genito di john dudley il lord protettore d'inghilterra il loro fu sicuramente un incontro che lasciò il segno in entrambi tanto che si fidanzarono per poi sposarsi l'anno dopo nel 1550 quando entrambi avevano da poco compiuto 18 anni questa unione era molto vantaggiosa per i robsart ma anche per il lord protettore john dudley non doveva essere una brutta scelta per il suo per il suo terzo genito dal momento che questo matrimonio gli garantiva una maggiore padronanza sulle terre del norfolk e c'è da dire in tutto questo che emmy e robert erano sinceramente innamorati l'una dell'altro all'epoca si disse che il loro era un matrimonio carnale un matrimonio cioè mosso e generato più dal sentimento che dalle convenienze economiche il che era vista con una certa disapprovazione dai rigidi nobili che ritenevano che il matrimonio dovesse avere poco a che fare con i sentimenti e unicamente con gli affari purtroppo la giovane coppia non poteva godere dell'indipendenza che avrebbero desiderato avere dal momento che robert aveva una rendita minima non essendo il primo genito e dovendo vedersela con altri fratelli e sorelle e emmy sarebbe entrata in possesso dei possedimenti paterni solo alla morte dei suoi genitori per il momento quindi i due vivevano unicamente grazie ai lasciti che venivano generosamente elargiti dai loro rispettivi padri nel 1553 dopo la morte del giovane re edoardo sesto john dudley architettò quel complotto famoso per mettere sul trono la cucina del re lady jane gray a questa vicenda ho già dedicato un video a parte se volete andare a recuperarvelo ve lo lascio qui questo complotto ebbe vita breve dal momento che la sorella di edoardo maria avente l'appoggio popolare riuscì a riprendersi il trono di conseguenza john dudley e tutta la sua famiglia finirono alla torre anche robert seguì il padre e i fratelli in carcere venendo condannato a morte per tradimento ma a differenza di suo padre john di suo fratello minore gilford il che aveva sposato lady jane gray e e soprattutto a differenza di quest'ultima robert riuscì a scansarsi il patibolo e a tempo debito venne rilasciato potendo riunirsi ad emi vista però la macchia del tradimento i due si ritrovarono a vivere in ristrettezze economiche ma almeno erano vivi e per il momento in salvo dagli intrighi di corte e nel 1557 dopo la morte dei suoi genitori emi ereditò i beni e le terre della sua famiglia così lei e robert iniziarono a ritagliarsi uno stile di vita più confacente al loro rango più dignitoso a differenza di robert di cui ci sono pervenuti tantissimi ritratti ufficiali che testimoniano il suo fascino e la sua bellezza di emi non ci sono pervenuti ritratti contemporanei ma dalle testimonianze che ci sono giunte possiamo dire che era ritenuta una donna molto bella secondo poi alcuni storici alcuni studiosi il suo unico ritratto contemporaneo potrebbe essere una miniatura risalente al 1550 anno del loro matrimonio casomai vi lascio il link a quest'immagine qui giù in descrizione per un certo periodo si riteneva che la fanciulla rappresentata in questo tondino fosse la sfortunata lady jane gray la regina dei nove giorni cognata di emi ma il soggetto risulta essere apparentemente troppo grande l'età per essere la giovane jane in più la donna raffigurata è rappresentata con delle ghiande sul petto e per alcuni le ghiande starebbero ad indicare il suo patrimonio con robert infatti in latino il nome robert robur significa quercia con la morte di maria prima e l'ascesa al trono di elisabetta prima le fortune dei dadlei parvero risanarsi ulteriormente venuto a mancare il governo cattolico della cattolica maria si ritornò ad un'impostazione più protestante della religione e soprattutto della politica inglese e sia robert che emi erano come abbiamo detto dei protestanti osservanti anzi robert faceva addirittura parte della francia più estrema del protestantesimo quella dei puritani di cui facevano parte anche i consiglieri più vicini alla neo della neo regina elisabetta ovvero il suo lord cancelliere william cecil e il suo maestro delle spie francis walsingham da notare che proprio questi due william cecil e francis walsingham sarebbero stati proprio i più acerrimi nemici di robert dadlei nel corso degli anni ma un'ulteriore fortuna per dadlei fu il fatto che elisabetta prese subito a cuore robert arrivando a nominarlo master of the horse che tradotto alla lettera sarebbe maestro di stalla il responsabile delle scuderie reali che si era un ruolo di competenza e gestione delle stalle reali come dice il titolo ma era anche uno dei ruoli più ambiti a corte ciò rendeva robert dadlei un pari del regno nonché uno dei principali consiglieri all'interno del governo della regina anzi per essere precisi lui era il terzo consigliere per quanto riguarda la graduatoria dell'importanza una tale salita di grado in così poco tempo non mancò di generare parecchi pettegolezzi sulla natura del rapporto che intercorreva tra la giovane regina e quello che era a tutti gli effetti con molta evidenza il suo principale favorito sono sorte un bel po di leggende romantiche attorno a robert dadlei e al suo rapporto con la regina elisabetta prima quella più nota riguarda il fatto che i due si sarebbero conosciuti fin da bambini e che proprio allora da allora da una parte robert avrebbe giurato eterno amore all'allora lady elisabetta figlia illegittima di enrico ottavo e dall'altra una piccola elisabetta già sicura del suo destino che proprio a robert avrebbe giurato che non si sarebbe mai sposata sconvolta dall'esecuzione della sua cugina slash matrigna catherine award accusata di adulterio non possiamo dire se dire con certezza se i due si conobbero fin da bambini questo dettaglio io l'ho trovato principalmente soltanto nella biografia su elisabetta prima di caroli ericsson ma per il resto non ho trovato fonti che non ho trovato fonti che fanno cenno a ciò fatto sta che davvero sembra che tra i due scoccola scintilla al primo colpo si dovrebbe imbastire tutto un discorso sul quel sulla scottante questione di elisabetta regina vergine che si intende per regina vergine se veramente fu vergine nel senso fisico del termine oppure se fu più un titolo simbolico ma su ma su questo argomento come proprio su elisabetta in generale il e sul suo regno florido ricco ma anche pieno di contraddizioni e soprattutto sulla sua psicologia complessa come ho detto io dedicherò un futuro video a parte perché altrimenti aprirei una parentesi troppo lunga perché c'è tanto da dire su elisabetta prima però vi anticipo che arriverà un bel po di tempo perché io necessito prima di studiare a fondo la sua figura per darne il ritratto più veritiero e reale possibile e con una figura controversa come quella di elisabetta non è facile e io vorrei evitare quella agiografia che hanno fatto già con il tipo con il film con cate blanchett in cui l'hanno fatto diventare una santa scesa in terra allora nell'interesse di questo video per l'argomento di cui parli di cui stiamo parlando vi basti sapere che elisabetta di suo era piuttosto vanitosa amava essere il centro dell'attenzione generale cosa che il suo ruolo di regina le permetteva e amava soprattutto che tutti gli uomini la lusingassero e la corteggiassero e soprattutto si facessero da lei corteggiare questo fu un vezzo che la accompagnò per tutta la vita persino durante la vecchiaia amava che la si corteggiasse come se fosse la più bella del reame ed era particolarmente gelosa se notava che le sue dame più giovani e affascinanti erano oggetto d'attenzione degli uomini della sua corte non mancarono gli episodi in cui dame che si lasciavano andare un po' troppo con i loro corteggiatori o che addirittura si fidanzavano e si sposavano senza chiedere il consenso della regina venissero da quest'ultima licenziate se non addirittura picchiate dalla stessa regina e quindi per evitare problemi di sorta era preferibile in maniera molto astuta che fossero le stesse dame a porsi sotto la protezione della regina magari chiedendole umilmente di aiutarle ad esaudire i loro sogni d'amore patrocinando fidanzamenti e matrimoni con i gentiluomini della corte bisognava semplicemente allisciare la regina e chiedere la sua protezione per elisabetta se non poteva essere l'oggetto del culto d'amore altrui essere la fata madrina di un altro amore era comunque un modo per sentirsi lusingata perché comunque la manteneva al centro di una storia d'amore l'importante era che le si riconoscesse un ruolo centrale ed è anche per questo che quando mi chiedono di consigliare qualche film preciso e che restituisca in maniera realistica un quadro psicologico di elisabetta più vicino alla realtà ci tengo particolarmente a consigliare due film il conte di essex del 1939 e il favorito della grande regina del 1955 magari vi lascio il link a questi film in descrizioni qualora siate curiosi queste pellicole sono incentrate sui due ultimi grandi favoriti della regina elisabetta ovvero il conte di essex e walter raling in entrambi i film a interpretare elisabetta c'è una straordinaria bet davis che restituisce un ritratto fedele di elisabetta presa nella sua eterna contraddizione di grande sovrana che riesce a nascondere ma non sempre e a combattere la sua umana fragilità un anche se a caro prezzo come vedete c'è tanto da dire su elisabetta e pensate che ho parlato di un aspetto infinitesimale della sua personalità ma è quella funzionale alla storia che vi sto raccontando come vi ho detto quindi considerate questo scenario con una elisabetta e un robert che forse si conoscono da anni forse no ma fatto sta che si sono conquistati a vicenda lei che ama il pensiero di avere uno spasimante per cui poter spasimare a sua volta lui che sia attratto da elisabetta in quanto donna sia in quanto regina ed è consapevole dei privilegi che la sua condizione e il suo stato di favorito gli possono garantire beh fate un po' voi calcoli e sullo sfondo sullo sfondo di questo idilio chi c'è una corte piena di consiglieri e cortigiani che guarda con molto fastidio questo parvenu che li sta soppiantando nei favori della regina e soprattutto sullo sfondo c'è emi la legittima moglie di robert lasciata vegetare nell'erforshire nella loro proprietà di famiglia lontana dalla corte perché elisabetta detestava che le si ricordasse che il suo favorito fosse già sposato e robert non voleva che la presenza della moglie diventasse un fastidio per la nella sua relazione nella sua relazione con la regina da quando robert prese impiego come master of the horse sul finire del 1558 fino al settembre del 1560 quando accadde ciò che accadde emi avrebbe rivisto robert solo due volte in tutto questo la sua salute stava iniziando a mostrare segni di cedimento secondo un dispaccio dell'ambasciatore spagnolo de feria o de feria non so come si pronunci emi era muy mala de un pecho che possiamo tradurre con è malata o ha un male ad un seno ciò lascerebbe pensare ad un cancro al seno tenete bene a mente questo dettaglio perché ci ritorneremo presto allora si dava praticamente per scontato quindi che emi non sarebbe vissuta a lungo e sommandolo al fatto che si stava imbastendo quella che sarebbe diventata l'eterna politica matrimoniale per trovare un marito per la regina elisabetta alcuni paventavano la possibilità che la regina avrebbe scelto di sposare proprio il favorito robert dadley dopo la morte ormai ritenuta imminente della sua prima moglie ciò diede adito a molti sospetti e insinuazioni riguardo allo stato di salute della povera emi secondo alcuni lei non sarebbe stato affatto malata ma sarebbe stato lo stesso robert che la stava facendo avvelenare lentamente per potersi sbarazzare al più presto di lei e poter diventare il consorte della regina seppure robert si accorse di queste voci attorno a lui non sembrava preoccuparsene più di tanto era talmente certo del favore della sovrana da non fregarsene per niente proprio come non sembrava fregarsene niente della povera emi e meno male che il loro era stato un matrimonio d'amore non oso immaginare se non fosse stato un matrimonio d'amore non so se si è capito ma nemmeno robert dadley rientra nella rosa dei personaggi che preferisco e arriviamo infine alla giornata di domenica dell'otto settembre del 1560 come abbiamo detto era la giornata del mercato popolare in quel di camnor praticamente tutti i domestici di casa dadley avevano già avuto la giornata libera da parte di emi l'unica che era disposta a rinunciare alla giornata di festa era la signora picto la cameriera personale di emi che conoscendo non solo lo stato di salute della sua signora ma anche il suo stato emotivo infatti emi sembrava molto abbattuta a causa del comportamento di suo marito ebbene a causa di ciò la signora picto non voleva lasciarla da sola e alla fine fu la stessa emi in maniera anche abbastanza rude ad ordinarle di andare alla fiera assieme agli altri domestici più per forza che per amore anche la signora picto uscì di casa assieme agli altri domestici lasciando emi da sola nella casa di camnor roll e già sappiamo quale orribile sorpresa si ritrovarono davanti quella sera i domestici quando rientrarono la morte tragica e al contempo misteriosa di emi dadley non poteva non colpire duramente chi la conosceva e anche buona parte della corte primo fra tutti robert che al di là del fatto che avesse letteralmente abbandonato la moglie negli ultimi due anni rimase sinceramente sconvolto dall'accaduto non sappiamo quanto ci fu di dolore per la perdita di emi quanto invece non fosse più che altro una prensione per le modalità misteriose in cui fosse morta e che potevano essere una pietra di scandalo per lui non lo sappiamo io sinceramente però prendere più per quest'ultima scusate sono un po' malfidato subito partì l'inchiesta su ordine della regina che già sapeva quali voci stessero già circolando attorno a quella morte misteriosa infatti come voleva si dimostrare le stesse voci che avevano accusato robert di stare avvelenando la moglie adesso lo accusavano di aver fatto di averla fatta brutalmente uccidere per poter essere libero di sposare la regina e ad alimentare queste voci erano gli stessi che avevano iniziato a mettere in giro le voci sull'avvelenamento i già citati acerrimi nemici di robert william cecil e francis walsingham anche se a quanto si evince dalla si evince dalla corrispondenza tra cecil e l'ambasciatore inglese in francia nicola stroke morton loro per primi non credevano alla colpevolezza di robert ma nei intrighi di potere non c'è arma più pericolosa della calunnia oltre al collo rotto causa principale del causa principale della sua morte secondo le analisi fatte durante l'inchiesta emmy presentava anche due ferite alla testa una delle quali abbastanza profonda da poter essere stata pure pure essa una probabile causa di morte ma c'era da capire se emmy aveva ricevuto i colpi alla testa prima della caduta dalle scale cosa che avrebbe avvalorato la tesi dell'omicidio oppure se quei colpi alla testa fossero derivati dalla stessa caduta oppure se e semi e tutto dipendeva se dal fatto semi fosse morta dopo aver ricevuto i colpi alla testa o perché le si era rotto il collo nella caduta dalle scale a seconda di come si guardava il quadro nel suo insieme ognuno poteva leggerci tanto le tracce di un omicidio quanto di un incidente e dopo gli interrogatori fatti alla servitù in particolare dopo la testimonianza della sua cameriera personale la già citata signora picto secondo la quale emmy voleva a forza rimanere da sola in casa quel giorno iniziò a farsi avanti anche un'ipotesi ancora più triste quella del suicidio ma prima di passare in esame le varie teorie sorte attorno a questo caso vediamo un po come si concluse questa storia cosa accadde l'inchiesta sulla morte di emmy dudley si concluse con un verdetto di morte accidentale quindi legalmente robert dudley venne scagionato dall'accusa di aver fatto assassinare la moglie ma la macchia dello scandalo gli rimase addosso per tutta la vita se come sembra lui e la regina elisabetta avevano pensato di sposarsi dopo la morte di emmy ciò non sarebbe più stato possibile o anche la reputazione della regina ne avrebbe risentito perché sarebbe stata vista in quel caso come l'accomplice volontaria o involontaria consapevole o inconsapevole di un uxoricida quindi nette a fare nessun matrimonio ma i due avrebbero mantenuto uno stretto legame per tutta la vita fino alla morte di robert anche se quest'ultimo con grande rabbia della regina si sarebbe in seguito sposato in seconde nozze con lettis nollis o nollais beh robertino caro premio per la fedeltà più salda bene passiamo adesso ad analizzare il caso che è quello che più ci interessa ovviamente prima di iniziare teniamo conto che si tratta di un episodio avvenuto nel 500 quindi pretendere di trovare una risposta sicura è del tutto impossibile a prescindere dal fatto che la scientifica come la intendiamo oggi non era la stessa dell'epoca quindi all'epoca non si sapeva nemmeno da quanto tempo fosse morta emi se fosse morta nel corso della giornata fosse morta da poco se la causa principale della morte fossero i colpi alla testa oppure il collo spezzato non si sa quindi già partendo da questi presupposti possiamo semplicemente limitarci a scandagliare le varie teorie e vedere qual è quella più credibile secondo le nostre opinioni e partiamo da quella che era stata l'aspirazione definitiva emersa dall'inchiesta quella dell'incidente ufficialmente emi era morta per un'accidentale caduta dalle scale semplice ma c'è da dire come già avevo detto all'inizio che la scala ai piedi della quale venne rinvenuto il corpo di emi non era uno scalone di rappresentanza con ventordicimila gradini era una rampa di scale abbastanza piccola come poteva essere morta per una semplice caduta la risposta più probabile la possiamo trovare nello stato di salute di emi come abbiamo visto nella lettera dell'ambasciatore spagnolo viene riportato che emi soffriva di un male al seno probabilmente un tumore al seno anzi per essere precisi poteva trattarsi di un tumore al seno metastatico in questo caso le cellule tumorali si presentano nella zona delle mammelle in fase iniziale per poi spostarsi anche su nelle o alle ossa causandone l'indebolimento quindi ci ritroviamo con un indebolimento nella zona della gabbia toracica delle spalle della schiena e del collo di conseguenza sarebbe bastata anche una semplice caduta a causare la rottura del collo di emi però c'è un però come in tutte le teorie di questo caso però rimane poco spiegabile in questo caso perché emi volesse rimanere completamente sola proprio quella giornata e a questo dettaglio proprio in particolare questo misterioso desiderio di voler restare da sola in casa si collegano le altre due teorie la prima quella che venne avanzata come abbiamo detto dalla testimonianza della signora picto quella del suicidio oltre ad essere malata emi sembrava essere anche molto depressa visto il sempre più evidente allontanamento di suo marito oltre all'umiliazione cui veniva sottoposta sotto gli occhi dell'intero regno e la stessa signora picto nella testimonianza che rese parlò dei suoi sospetti a riguardo con una certa reticenza visto comunque che il suicidio era ritenuto uno dei peccati più gravi in assoluto però lei raccontò anche di aver sentito più volte la sua signora pregare dio chiedendogli perdono per i suoi pensieri tutto dal racconto della signora picto lascia emergere il quadro di una persona molto provata dal punto di vista emotivo e psicologico e secondo alcuni il chiudere l'inchiesta con un verdetto di morte accidentale poteva essere un modo per nascondere una più scandalosa morte per suicidio ma in questa tesi c'è un punto che non torna come abbiamo detto la scala da cui era precipitata emi non era tanto grande per cui uccidersi lanciandosi dalle scale non è di sicuro il metodo più sicuro per farla finita si potrebbe rimanere invalidi e continuare a vivere col proprio dolore sarebbe stato molto più credibile se magari emi si fosse lanciata direttamente da una finestra ecco in quel caso magari la tesi del suicidio avrebbe avuto delle basi più solide e giungiamo quindi alla tesi più scottante quella dell'omicidio alla quale molti al di là del verdetto dell'inchiesta continuarono a credere in un certo modo grazie anche all'eterna voce che continuò a circolare imperterrita e sottile alimentata da quella vecchia volpe di william cecil che voleva robert come mandante dell'omicidio della moglie in questo caso emi non sarebbe morta per la rottura del collo ma per i due colpi riscontrati sul cranio uno dei quali secondo chi esaminò il cadavere era abbastanza profondo e evidente da poter essere fatale secondo la volgata comune alimentata dallo stesso william cecil e portata avanti anche dal partito cattolico che voleva screditare in questo modo il partito protestante robert avrebbe fatto uccidere la moglie da un suo servitore per poter essere libero di sposare la regina questa teoria fa acqua da tutte le parti prima di tutto cozza con le precedenti voci che volevano che robert stesse avvelenando lentamente emi per simulare una morte naturale c'è poi da dire che robert non ci guadagnò assolutamente nulla dalla morte della moglie anzi la sua reputazione ne uscì completamente distrutta tanto che non pote più proporsi come aspirante alla mano della regina perché su di lui pendette per sempre come una sfada di damocle il sospetto di aver assassinato la moglie chi più ci aveva rimesso da questa storia a parte la povera emi che poverina ci aveva rimesso addirittura alla vita l'altro che aveva ci aveva rimesso maggiormente era proprio robert paradossalmente ma allora chi poteva aver ucciso emi secondo molti storici che sostengono questa tesi dell'omicidio ad aver fatto uccidere emi fu proprio la persona che più ci guadagnò dalla sua morte lo stesso william cecil che con la caduta in disgrazia di robert riuscì a riprendere possesso del suo ruolo di persona più fidata della regina secondo questa teoria cecil avrebbe mandato un suo servitore ad uccidere emi forse colpendola alla testa forse spezzandole direttamente il collo lasciandola poi ai piedi della scalinata in modo da far passare robert come probabile colpevole e impedirgli di poter concorrere alla mano di elisabetta prima in questo caso il fatto che emi volesse rimanere sola potrebbe essere spiegato col fatto che magari stava aspettando un messaggero di cecil che forse voleva aiutarla a fare in modo che robert ritornasse sotto il tetto coniugale il però di questa teoria è che non abbiamo alcuna prova a sostegno di ciò tutto questo è una semplice supposizione alcuni poi si spingono addirittura a ipotizzare che qualora si fosse trattato di omicidio ciò sarebbe avvenuto con la condiscendenza della stessa elisabetta ma non per togliere di mezzo una rivale in quanto regina lei non poteva avere alcuna rivale con la sola eccezione di maria stewart ma quella è un'altra storia quindi non per togliere di mezzo una rivale ma proprio per rendere impossibile a robert di aspirare alla sua mano lo so sembra paradossale ma seguitemi perché dovete sapere che una cosa che elisabetta amò sopra ogni altra cosa più delle lusinghe e delle dichiarazioni d'amore di cui era fatta oggetto era la sua libertà e la sua indipendenza di regina e di certo non aveva non ci avrebbe mai rinunciato per mettersi sotto il pugno di un marito cosa che fece non solo con robert ma con tutti gli altri suoi corteggiatori insinuando il sospetto che robert fosse un uxoricida avrebbe potuto togliere a robert ogni possibilità di poter chiedere alla regina più di quanto non avesse dovuto chiedere e al tempo stesso elisabetta avrebbe potuto tenerlo comunque legato a sé ma alle sue condizioni allora io sono il primo a non credere molto che elisabetta possa aver ordito o anche solo approvato un omicidio di questo tipo ma il tenere lontani i suoi corteggiatori quel tanto che bastava per non cedere loro più terreno di quanto non volesse dare loro fu sempre una sua pratica comune per cui seppure non ebbe mai niente a che fare con la morte della povera emi come sono convinto elisabetta fu però ben ben accorta a cavalcare anche lei l'onda dello scandalo per tenere robert legato a lei ma impossibilitato ad aspirare alla sua mano è una metodologia piuttosto machiavellica che elisabetta avrebbe usato in varie circostanze in vari modi per tutto il corso della sua vita ma quando arriverò a parlare di lei in un video a parte parlerò molto più ampiamente di questo suo aspetto molto più machiavellico quindi in conclusione come vi ho detto è impossibile dare una risposta certa sul mistero della morte di emi dudley ognuno di noi può propendere per una tesi o per un'altra io francamente visti anche gli elementi a nostra disposizione propenderei più per la morte accidentale però non mi sento di escludere completamente la tesi dell'omicidio su ordine di william cecil anche se come ho detto non abbiamo prove a riguardo con tutte le prove che abbiamo a disposizione propenderei ufficialmente anch'io per la morte accidentale ma adesso tocca a voi dirmi cosa ne pensate di questo mistero secondo voi emi e la povera emi dudley è morta per una caduta accidentale si è suicidata oppure è stata assassinata ditemi voi cosa ne pensate lasciatemi lasciatemi lo in tanti commenti sono curioso di conoscere la vostra e prima di chiudere cultura generale allora come ho detto di emi non esistono quadri canonici ufficiali a parte quel famoso tondino del risalente al 1550 però per il resto è stata anche abbastanza rappresentata nelle arti in particolare viene rappresentata la sua il ritrovamento del suo corpo in un quadro vittoriano di william frederick jemas lo stesso che ho usato come copertina di questo video ma magari se volete vedervelo meglio oppure ve lo lascio linkato qui in descrizione in descrizione per quanto riguarda la bibliografia allora prima di tutto vi dico che le mie fonti per fare questo video sono principalmente questi due libri primo elisabetta prima la vergine regina di caroli erickson in cui la vicenda non viene approfondita viene esposta per sommi capi la in un unico capitolo l'autrice però si guarda bene la erickson si guarda bene però dal dare una risposta certa e secondo me ha fatto una cosa buona non ha non ha voluto sbilanciarsi più di tanto e soprattutto elisabetta e le sue conquiste di margaret simpson libro per ragazzi della serie morto che parla una serie di biografie per ragazzi che raccontano le storie in maniera molto ironica molto grottesca questo diciamo il primo libro che ho letto su elisabetta quando ero un ragazzino e prima che possiate sghignazzare dire che mi sono basato sul libro per ragazzi sappiate che in questo libro ho trovato l'esposizione più adatta del mistero della morte di emi infatti se mi sono riuscito a se sono riuscito a sondare bene le varie teorie proprio grazie a questo libro infatti ne viene dedicato proprio un'analisi perfetta e dettagliata in cui vengono esposti però i contro delle varie teorie ovvero il suicidio la morte accidentale l'omicidio ad opera di robert o l'omicidio ad opera di william cecil e beh non so mi pare che sia fuori catalogo questo libro comunque se vi dovesse capitare di trovarlo leggetelo trovatelo magari anche stesso i libri di questa collana morto che parla io ne ho altri due a parte questo su elisabetta prima ne ho uno su cleopatra e uno su leonardo da vinci sono molto belli mi piacciono molto mi dispiace non aver letto anche gli altri perché ci sono per quanto ne so ce n'è uno su c'è nella collana ci sono anche isaac newton roald dahl e e e e e e roald dahl isaac newton e mi pare albert einstein non vorrei sbagliare mi dispiace però di non averli trovati tutti e mi sa che adesso sono sono edizione salani casomai se sono ancora disponibili io vi lascio il link amazon in descrizione casomai ci fossero ancora mi pare siamo fuori catalogo sarebbe un peccato però casomai vi doveste doveste capitare di trovarlo sulle bancarelle all'ibs ve lo consiglio caldamente sono molto belli e molto divertenti e anche molto precisi e molto accurati non lasciatevi ingannare dal fatto che sono libri più per ragazzi secondo me possono essere apprezzati tranquillamente dagli adulti che se siete interessati alla storia per quanto riguarda il mondo dei romanzi la storia di del mistero della morte di emi non ha lasciato indifferenti un grande autore come walter scott uno dei padri del romanzo storico che le ha dedicato ha dedicato a questo episodio in un suo romanzo poco noto kenilworth un romanzo che al di là di vari sviste storiche come il fatto che venga rappresentato william shakespeare già adulto famose che ha già scritto la tempesta in epoca elisabettiana errore grossolano e la storia venga spostata nel 1575 da una perfetta rappresentazione introspettiva proprio tipica dei romanzi di walter scott in questo romanzo l'autore abbraccia la teoria dell'omicidio ma in maniera piuttosto alternativa non vi voglio anticipare nulla caso mai voleste recuperare il romanzo è di difficile reperibilità anche questo io una volta lo beccai su una bancarella a san viaggio dei librai in una vecchia collana dei libri di romanzi storici che decenni fa uscivano in edicola mi dispiace di non essere riuscito a di non averlo preso in quella quell'occasione perché da allora non l'ho più trovato qualora dovesse ricapitarmi di prenderlo sicuramente ci farò un pensiero e lo acquisterò casomai io all'occorrenza vi lascio il link amazon in descrizione oppure vi lascio il link amazon al romanzo in inglese qualora masticchiate l'inglese la storia di emi del mistero di emi viene ripresa anche dalla sempre presente philippa gregory che nel romanzo l'amante della regina vergine che va il titolo racconta la storia di questo triangolo amoroso con robert elisabetta e la povera emi eccetera e anche qui la la gregory abbraccia anche lei la teoria dell'omicidio non vi dico l'opera di chi anche perché la stessa philippa gregory finge di voler lasciare insoluto il mistero ma in realtà è evidente lei se per chi parteggia il romanzo devo dire tra i più scadenti che lei abbia mai scritto è praticamente un harmony in cui elisabetta fa una figura miserrima ok va bene lasciamo stare per quanto riguarda invece le rappresentazioni cinematografiche televisive emi non viene rappresentata più di tanto basti pensare che ad esempio nel film elisabeth con kate blanchett lei non viene assolutamente nominata anzi a parte il fatto che la c'è buona buona parte della storia viene praticamente inventata robert adelei viene rappresentato come un protestante che si è convertito che un ex cattolico convertitosi al protestantesimo quando come abbiamo visto era uno dei dei protestanti più intransigenti che esistessero ma non viene nemmeno fatto cenno del suo primo matrimonio con emi anzi lui si comporta come se fosse libero di sposare elisabetta tranquillamente quindi emi non viene proprio citata mentre invece compare nella in una miniserie poco conosciuta una miniserie inglese in due puntate che si intitola the virgin queen che io pensavo fosse solo in inglese però di recente ho visto che è arrivata anche qui in italia e trovate tutte e due le puntate proprio qui su youtube casomai ve li lascio linkati io nel pallino magico oppure qui sotto in descrizione qualora voleste recuperarlo in questa miniserie emi compare nel primo episodio interpretata da emilia fox che molti conosceranno per aver interpretato morgoz nella serie tv merlin e in più è stata interpretata da clara pasieca in quel crogiuolo di non so che cosa che la serie tv regna allora in tutte queste due in entrambe queste versioni viene abbracciata la tesi del suicidio solo che in the virgin queen emi si toglie la vita un po per disperazione ma un po anche perché è consapevole che con la sua morte sarà uno scandalo perché sarà uno scandalo per il marito per la per la per la scalata sociale del marito infatti lei si toglie la vita oltre che per disperazione anche perché spera di salvare il marito dalla sua tracotanza proprio grazie allo scandalo che ne deriverà mentre invece in regno emi viene rappresentata come una pazza isterica scriteriata completamente fuori di testa che finge di essere malata perché spera di tenere legato a sé il marito e che alla fine si uccide simulando un omicidio in modo così da prendersi la sua vendetta contro robert e contro elisabetta allora in entrambe queste versioni di bisogna dire sia in the virgin queen che in regno emi non si uccide gettandosi giù da una rampa di scale come sarebbe storicamente più accurato ma la fanno gettare in entrambe le versioni direttamente dal ballatoio della delle scale e c'è una leggerissima differenza tra il buttarsi giù da una rampa di scale e il buttarsi giù direttamente da un ballatoio primo levi avrebbe un bel po di cose da dire al riguardo ma ok non usciamo fuori tema e lasciamo riposare in pace queste personalità eminenti bene e questo è tutto quello che sono riuscito a trovare sulla cultura generale per quanto riguarda emi dadley e il mistero della sua morte bene ragazzi io concludo qua il video spero che vi sia piaciuto e che vi abbia interessato e ditemi commentate ditemi la vostra su questo caso se lo conoscevate cosa ne pensate quale secondo voi è la teoria più probabile riguardo al mistero della morte di emi dadley lasciatemi tanti commenti sono curioso di conoscere la vostra iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video mettete mi piace la mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao